Gira la voce che lei abbia preso una delle sue pazienti come amante. Due padri della psicoanalisi ed una giovane paziente che guarirà e supererà in teoria anche i suoi maestri. È il triangolo Freud, Jung e Sabina S, ovvero Sabina Spielrein, quello che David Cronenberg, da sempre affascinato dalla psicoanalisi, racconta in A Dangerous Method, un metodo pericoloso. Si viveva in quel periodo a Vienna pensando che l'uomo fosse un animale che stava evolvendo in angelo. Freud mise in dubbio tutto ciò, ci ha detto David Cronenberg, con la psicoanalisi. La razionalità, diceva, non può risolvere i conflitti dell'uomo perché c'è un lato non conscio. A volte devi fare qualcosa di imperdonabile per poter continuare a vivere. Freud è Bigo Mortensen, Jung l'attore del momento, Michael Fassbender. Sabina è Keira Knightley, prima paziente, poi amante di Jung e infine teorica del legame tra amore e morte.